L'abbiamo anticipato in apertura di trasmissione Giovani e Lavoro, il tema di oggi del nostro approfondimento sempre più distanti dai mestieri manuali nonostante le richieste. Adesso una campagna del comune di Torino cerca di far cadere pregiudizi vecchi e nuovi su queste professioni. Il tutto attraverso dei video. Ci dice tutto Matteo Spicuglia. Beh, io ho fatto il perito meccanico. Il diploma l'ho preso al serale. Un video fatto da giovani per altri giovani. L'esperienza del lavoro raccontata in prima persona. Fresatori, operai specializzati, falegnami, saldatori, macellai. Professioni molto comuni fino a qualche tempo fa, oggi in crisi di identità. Pregiudizi, altri modelli sociali di riferimento, poca preparazione. Risultato? La domanda supera l'offerta. I giovani non scelgono più il lavoro manuale. Le imprese esprimono una domanda, una domanda di giovani, tra l'altro che sostituiscano le vecchie generazioni. Ci sono mestieri che rischiano di andare a esaurimento, come il macellaio, perché si tramandano di generazione in generazione. Non c'è una scuola che formi. Parte da qui il progetto Maguarda del settore politiche giovanili del comune di Torino. Tutto ruota intorno ad alcuni video sulle professioni realizzati dai giovani del centro giovanile CAP-100. Saranno portate in scuole, in forma giovani, centri giovanili, le testimonianze di ragazzi già in azienda o bottega e dei loro datori di lavoro. I video non sono esaustivi, non sono dei documentari, non ci dicono tutto quello che accade in fabbrica, ma sono uno stimolo. Quello che volevamo promuovere con questo progetto è una cultura del lavoro, una cultura del lavoro manuale che faccia discutere. Perché attraverso la discussione forse riusciamo a smontare le radicate rappresentazioni, i pregiudizi che stanno dietro ai lavori manuali. Il tema è attualissimo, lo prova anche il coinvolgimento delle imprese nel progetto. Aldo Facenda è della Bottero, azienda che produce macchinari per la lavorazione del vetro. Un'impresa giovane. Il problema per noi è trovare dei giovani che abbiano ancora voglia di sporcarsi le mani e quindi di partire dal basso per incominciare la famosa gavetta e seconda cosa trovare dei giovani che abbiano voglia di andare in giro per il mondo e che abbiano voglia di farsi tanti giorni l'anno fuori sede perché è un'esperienza unica e il mondo è sempre più piccolo, sempre più globale. I video del progetto Maguarda cominceranno a circolare nei prossimi giorni. Su YouTube è già disponibile un estratto, basta cercare Maguarda Trailer. Un click e buona visione.